Bella ragazzi e bentornati in un nuovo vlog in macchina Finalmente ragazzi guardate qui chi c'è di nuovo Il nostro caro amico Sesterci Ripartiamo alla grande ragazzi in questo nuovo anno su Youtube Come avete potuto vedere dai video precedenti Vi ho detto tutta quanta la scaletta di questo nuovissimo anno su Youtube Una novità dell'ultimo secondo che neanche Sesterci sa Perché mi sono scordato di dirlo però ora glielo diremo in diretta Che un nostro amico ci ha, ci ha ma proposto Ma ci ha proposto a tutti e due di iniziare un nuovo progetto molto carino e fantastic Che ci porterà via un pochino di tempo Però se riusciamo a incastrare Se riusciamo a incastrare questo progetto insieme in mezzo a tutti gli impegni eccetera Verrà fuori ma non spada per usciate per fede puntana Pezzo a tre gradi all'occhio sinistro Dicevo riusciremo a non cascare telefono Bravo Riusciremo a tirar fuori qualcosa di veramente bello E insomma a questo nuovo oggetto arriverà anche la GoPro Perché tu non lo sai ma io te e Paolo ci smizzeremo la GoPro Cioè ci smizzeremo e diviso due Quindi diviso tre ci devi mettere i tuoi riguri Insomma vabbè insomma in tre ci compriamo sta GoPro così famo questi benedetti video ancora più cazzuti Ancora più belli ancora più divertenti Ancora No che bella mica è finito il video E che pensava di Vabbè c'è una novità ragazzi C'è una novità che purtroppo mi lacera il cuore Perché mi sono stufato dei giochi che ho per la Playstation Mi sono stufato di FIFA mi sono stufato di The Last of Us Forse 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 si salva ancora God Quindi per adesso non vedrete più video su No perché ancora non può Voi ancora non l'avete visto però l'ho registrato io Non vedrete i video su FIFA E non vedrete i video su The Last of Us Come vi avevo promesso Ma vedrete forse Ah un'altra serie su Ghost Ora ci sto pensando a fare una serie carina Quindi fino a novembre Per quanto riguarda il gameplay Vedrete solamente Ghost Un secondo che mette apposta la telecamera Per quanto riguarda il gameplay Vedrete solamente Ghost E poi da novembre Inizieremo con Advanced Warfare Sempre calotti Di Faros Quanto sei scontato Giusto? Sì ma tanto lo dicono sempre Vabbè tanto lo dicono sempre E sti cazzo Fili di puttana Portacci vostra Vabbè E A parte questo Non gioco Dicevamo a parte questo Forse Se riusciremo Ritorneremo A Roma A partire il tempo A fare l'esperimento sociale Sociale Poi Dobbiamo fare un altro Tu l'hai visto L'ultimo video In cui dicevo Che dovevamo Sì l'hai visto per forza Perché vedete Stato il canale Ma che cazzo Le domande vi faccio Però Vabbè raga Scusate Una certa ora Io c'ho sonno E Dovremmo rifare Un'altra FAQ Assolutamente Perché caro Se stessi Con questo pizzetto Bello bello Ci abbiamo tante domande Per te Tante domande Per te Poi ci metto Una sfida Sempre Quando è che ti dai Il pezzetto Lo vuoi dire Subito adesso Mai Tu lo tagli subito No 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 Mai Non lo taglio proprio mai Non lo taglio mai Però guarda la strada Se no poi mi è rotto Se no mi piace E Che ve volevo dire A parte questo Ammenti di fare una sfida Molto 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 Carina e cazzuta Non vi dico con chi Sarà una surprise La vedrete Non so quando Perché per registrarla E ritarla Ci metterò un pochino Di tempo Ancora non l'ho registrata Quindi La vedrete Tra molto Molto tempo E Il prossimo video Penso Sarà La nuova serie Su Ghost Io te lo darò ancora il nome Però già Ho in mente Qualche Qualche Idezza Poi Il fuck E Non lo so poi Cesterci Cosa fai Quindi Bravo Mi è piaciuta Stata risposta Da 5 e l'8 Mi devi lasciare lì A prendere Quanto Vabbè ragazzuoli Io sono arrivato Cesterci Deve tornare a casa Quindi detto questo Ci vediamo Alla prossima E bella Però magari Dal bella E bloccare il video Proprio in mezzo All'incrocio Guarda Sto fio De puttana Mori male Sotto Sotto Un camion Magari Mentre Mentre Sotto Scureggi Pure Grazie Signora Vabbè ragazzuoli Detto questo Ci vediamo Alla prossima A video Di dietro A sta macchina E bella Sì Anche perché c'è una macchina Di dietro Alla prossima